E' piena estate, piove poco, ma la raccolta d'acqua negli ultimi tempi non è stata inferiore agli anni precedenti, da quanto dice l'Istat. I rubinetti italiani rischiano però di restare all'asciutto. A Roma, tra pochi giorni, la regione, se Comune e Acea non intervengono con un piano B, farà scattare il razionamento dell'acqua. C'è solo da sperare che i Romani vadano in vacanza e la città si svuoti. Altre dieci regioni hanno annunciato lo stato di siccità. Che la capitale d'Italia resti senza acqua 8 ore al giorno tra l'afra estiva e il picco turistico è il segno che si è di fronte a un'emergenza, ma non ad una sorpresa. Si sa che il fabbisogno, specie nelle grandi città, è aumentato e si costruiscono da anni i modelli di previsione dei cambiamenti climatici, ma la rete idrica non viene sistemata, i depuratori messi in funzione, i buchi tappati e con un 40% di spreco di acqua lungo i condotti è evidente che l'emergenza infinita è un problema di gestione della risorsa, non di sua scarsità. Abbiamo assistito sei anni fa a un surreale referendum sull'acqua per tutti. La retorica dell'acqua bene comune ha fatto passare in secondo piano la realtà del servizio idrico, che è un'attività industriale fatta di lavoro e capitale e pertanto richiede una gestione imprenditoriale e una capacità di fare investimenti che raramente si conciliano con gli obiettivi dei prassi del capitalismo municipale. Ne paghiamo ora le conseguenze, con l'acqua che non è di tutti, ma con tutti che rischiamo di restare senza acqua.